Grazie Presidente. Sinceramente rimango basito da questa posizione perché è una posizione che ha dell'incredibile. Noi due settimane fa c'eravamo espressi in modo contrario alla richiesta per coprire le spaccature della maggioranza di una richiesta di rinviare un provvedimento. Perché un provvedimento che non vedeva nulla di ostativo nel merito e esisteva un rinvio politico, portava a prolungare le tempistiche come spesso accade in questo Paese, in questa regione, dove a scapito dell'interesse dei cittadini si fanno delle scelte politiche dove si prolunga, si nicchia, si fa finta di nulla. In ogni caso noi c'eravamo espressi con parere contrario al rinvio in giunta. Il Consiglio, a maggioranza, legittimamente ha scelto di rimandare in giunta la posizione di richiedere un'espressione, dato che non era stata presa posizione la giunta ma non esisteva nessuna motivazione ostativa, tant'è che, ricordo, due settimane fa in commissione era venuto l'assessore Garavaglia, aveva fatto praticamente scena muta perché non esisteva nessuna motivazione che potesse addurre a un diniego o a un rinvio del provvedimento. Quindi, come al solito, sono a pagare i cittadini, vengono rinviati i provvedimenti. Abbiamo adesso la lista Maroni e la Lega che escono perché sono scontenti, non si capisce bene di che cosa, cioè se la giunta si espressa o non si espressa. La giunta sicuramente è una cosa l'ha fatta, non ha rispettato il Consiglio regionale. Il Consiglio regionale gli ha chiesto di esprimersi, di esprimere un parere, gli ha dato dei tempi, maggioranza e una parte della minoranza hanno concordato con questa richiesta, la giunta se ne è lavata le mani, se ne è lavata le mani per una questione, ripeto, prettamente politica. Non esiste nessuna motivazione tecnica che osta al procedere del provvedimento, altrimenti si sarebbe espressa, quindi è assurdo che si dica ma noi usciamo dall'aula perché non siamo d'accordo, perché non capiamo, perché la giunta non si espressa, il procedimento è differente. Certo che il procedimento è differente. La giunta si può esprimere, si deve esprimere, non si espressa in un primo tempo, è stato richiesto un prolungamento e una dilazione dei tempi di due settimane per permettere alla giunta di prendersi del tempo e rispondere, c'è stato ancora un traccheggiare, un tentennare da parte della giunta, giustamente il Consiglio che è sovrano ha deciso di continuare ad andare oltre. Ecco, esiste un dato politico di tutta questa vicenda, il dato è che c'è una maggioranza che su questa vicenda ha deciso per la seconda volta dopo la questione della moratoria dei centri commerciali di spaccarsi. Si spacca la maggioranza, non si va d'accordo su questi provvedimenti che dovrebbero essere dei provvedimenti leggeri perché stiamo parlando di dare la parola ai cittadini, quindi l'istituto referendario che è il massimo grado di democrazia in questo Paese. Non si prende una posizione, si spacca una maggioranza, io mi chiedo sinceramente quando ci saranno i provvedimenti molto più pesanti e che vanno a incidere molto di più su tutto il resto, su quasi 10 milioni di abitanti che abitano questa regione, quindi una riforma della sanità piuttosto che una riforma dell'edilizia pubblica, del consumo di suolo, dove andremo a finire perché davvero noi registriamo su delle questioni labili una spaccatura a maggioranza. Abbiamo visto su questioni molto più pesanti già a livello di stampa e di media una grossa spaccatura, io sono fortemente preoccupato prima come cittadino e poi come consigliere regionale di questo oscillare, di queste continue giravolte di questa maggioranza. Quindi noi continuiamo in ogni caso, indipendentemente da quello che fa questa maggioranza in quest'Aula ad essere coerenti, per noi i cittadini sono i sovrani di questa regione e di questo Paese, quindi noi siamo per ridare la parola a loro attraverso l'istituto del referendum e quindi chiediamo e voteremo a favore, chiediamo che tutto il Consiglio si esprima in modo favorevole per il provvedimento. Grazie. Io credo che in quest'Aula oggi non stiamo scrivendo pagine di buona politica perché mi pare un atteggiamento assolutamente vergognoso quello della maggioranza e soprattutto venendo dal territorio credo che in questo modo noi non stiamo aiutando i cittadini a chiarire le idee e a capire cosa significa questo progetto di fusione. I cittadini sul territorio sono combattuti, hanno dei legittimi dubbi, certo che se poi si vedono la regione Lombardia che dovrebbe svolgere un ruolo di guida che agisce in questo modo, credo che anche il loro disorientamento sia ancora maggiore e ancora più accentuato. Quindi qui si chiede di indire un referendum e di chiedere ai cittadini cosa ne pensano, questo atteggiamento a mio avviso non lo comprendo, non capisco e ripeto, sottolineo che sul territorio questo non sta facendo bene. Si stanno polarizzando le posizioni e per quanto sono comprensibili sul territorio, perché i cittadini di un piccolo paese vogliono capire, vogliono avere delle indicazioni, non è ammissibile che la regione Lombardia non si pronunci e non sia chiara e non gli aiuti i cittadini a capire a cosa si sta andando incontro. Con questo ribadisco il voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle alla proposta. Grazie.